Io sono Gualtiero Onselmetti della SatNet, sono responsabile vendita e marketing dell'azienda. SatNet è un distributore giovane, decisamente giovane, che ha trovato in TLS un partner ideale. È stata una moda a prima vista, ma di un sacco di anni fa, quando ancora facevamo i sistemi integrator. C'è sempre piaciuto TLS, sono sempre piaciuti i prodotti, c'è sempre piaciuta la diversità del prodotto e il modo con cui TLS risolveva le problematiche dei clienti con soluzioni di alta qualità innanzitutto, perché una delle parole d'ordine della SatNet è quella di essere in grado di mettere insieme dei sistemi, di fornire dei sistemi di alta qualità, con la flessibilità di utilizzo e con le particolarità tecnologiche che ci hanno sempre stupito di TLS, come ad esempio le soluzioni che uniscono il mondo analogico con il digitale. Finalmente siamo giunti a un accordo di distribuzione, dopo tanti anni di tira-molla, ci siamo lasciati, ci siamo ripresi. Dopo un sacco di anni siamo arrivati a questo accordo di distribuzione che è appena decollato e da cui ci aspettiamo davvero molto. Io sono Serkan Gunnar, responsabile per il marketing e per la comunicazione nel produttore di tecnologie per le medie TLS Germania. Per noi era molto importante trovare un partner che intende molto la nostra tecnologia e che è pronto a dare nuove strade, anche dandoci l'assistenza e la conoscenza del mercato italiano. Siamo convinti di aver trovato il partner giusto perché loro vengono da quell'ambiente di cui abbiamo noi bisogno e hanno tanta conoscenza e appunto per questo sono convinto che abbiamo fatto decisamente la decisione giusta.